Buon lavoro a tutti. La prima parola chiave della settimana è orario flessibile. Uno studio pubblicato sull'American Journal of Public Health ha dimostrato che la flessibilità in entrata e la flessibilità in uscita dal lavoro riducono il rischio di malattie del cuore pensato un po' di ben dieci anni. I 14 ricercatori della Penn State e di Harvard hanno sottolineato una correlazione tra rigidità dell'orario e appunto stress. Flessibilità dunque fa rima con salubrità. Questo è quello che abbiamo imparato da questo studio. La seconda parola chiave della settimana è stella verde. La prestigiosa guida Michelin ha segnato una stella verde oltre che è una stella rossa al ristorante Orto di via San Protaso a Milano. Molto semplice la filosofia dei due chef Alberto Toè e Norbert Niederkofler. Tutto si basa sul concetto di ora etica. Cosa significa? Che le materie prime che vengono utilizzate in cucina dal ristorante orto arrivano da produttori o allevatori che distano da Milano massimo un'ora. Esempio la carne arriva dal pavese, i formaggi arrivano dalle valli bergamasche e i fiori, sorpresa, pensate un po', arrivano dai campi milanesi. La terza e ultima parola chiave della settimana è artigianato. Sabato prossimo, 2 dicembre, si inaugura a Rò l'artigiano in fiera. 8 padiglioni, 2.550 espositori provenienti da 86 paesi. Una grande festa in sostanza. Una grande festa nata da un'idea. Era il 1996 quando Milano decise di dare vita a un evento popolare dedicato agli artigiani. Scommessa vinta e dunque andiamo a vedere l'artigiano in fiera perché ci riconnette con le nostre tradizioni. Buon lavoro a tutti!